Ergis ACU Grazie, buongiorno a tutti Intanto complimenti per l'organizzazione perché non me lo immaginavo tanto Parti il video Volevo subito chiedervi Quanti di voi hanno un pc per fare workshop? Anche se non hanno preinstallato niente Una ventina, una trentina, ok Comunque chi non ha preinstallato un WooCommerce o Wordpress Può andare su egranda.it Che è un dominio così Ho preinstallato tutto io Fate il login Adesso vi farei alzare la mano uno ad uno Per dirvi i nomi utente Comunque come vedete ho creato gli utenti Da cui potete accedere Torino 1, Torino 2, Torino 3 Fino a 60 utenti Immaginavo che non sareste stati più di 60 Quindi dovreste partire in ordine Quindi organizziamoci Nel senso prima fila c'è qualcuno? No Seconda fila Lì vedo un pc Vabbè comunque Vi faccio contare Partiamo in ordine da qui Alzate la mano chi fa il workshop Quindi Torino 1 Torino 2 Torino 3 Torino 4 Torino 5 Torino 6 Torino 7 Torino 8 Torino 9 Torino 10 Torino 11 Torino 12 Torino 13 Torino 14 Torino 15 Torino 16 Torino Ok 17 18 19 20 21 22 Vi ha finito? Ok Quindi siamo in 22 Allora Cerchere il workshop è una lezione pratica Quindi cercheremo di fare le cose elementari Con un sito WooCommerce Appena questo Proprio sul workshop Se andate a piantare Aspetta Io ho un cavo Se ti serve l'HDMI Non so se è abbastanza lungo Come on Allora non è il cavo È la ricezione Vedi complimenti sono stati fatali Prova Diminuiamo qualcosa Diamogli un po' meno qualità A questo Video Quindi è un workshop Nel senso che voi dovete avere un portatile Che funziona Nel senso che dovete fare voi le cose Perché non le potrete vedere qua Questo è il senso del workshop Vediamo se così è più contento Ah se rimane per ancora un paio di secondi Già siamo contenti Ma Sembrerebbe Ecco troppo Vabbè Comunque Se avete fatto tutti i login Siamo a posto La password Del nuovo utente Scusate Difficile da che era Non va internet E allora deve essere un problema di rete Perché anche qui Credo sia quello Questo Questo è il suo proiettore Ma se no Non so se cambiare pc Il login vi riesce E' uguale Non cambia niente No 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 Perfetto Usa quello che hai No no Useremo solo WooCommerce Tanto Vabbè Salta qui l'immagine Però Chi Chi ha il pc acceso Che funziona Può vedere Il lato amministrazione Del Wordpress Allora Intanto Non so neanche che genere Di approccio dare A questo workshop Nel senso che Bisognerebbe capire Il livello Di conoscenza Che avete tutti voi Singolarmente di Wordpress E siccome non può essere Lo stesso Cercherò di essere Molto elementare Ah nessuna internet Questo smorza la mia Tensione Dimmi Sì Cioè Nel senso che Io l'approccio che darei È proprio quello pratico Nel senso Guardiamo un attimino Una panoramica veloce All'altra amministrazione Wordpress Guardiamo il plugin Le funzioni plugin Soprattutto le opzioni Dopodiché Passerei direttamente A creare un prodotto Quindi farei un prodotto Tutti insieme Per vedere come funziona Dividerei Guarderei un attimo Velocemente Le categorie I menu Come dividono i prodotti I vari metatag Le varianti Le cose principali E poi Parlerei di Di come farlo funzionare Un e-commerce Cioè di tutto il lato Del marketing Ok scusatemi Allora A chi va internet Metà? Può essere il sito? Può essere il sito? Se il sito è un problema di host Non può essere Wordpress Quindi Non date la colpa a Wordpress Comunque se questo schermo Non balla più Io inizierei a Raccontarvi un attimino Per chi Iniziamo da zero Per chi non conosce Wordpress Questo è il lato amministrazione Da qui Da amministratori Potete gestire il vostro sito In questo caso La parte del blogging A noi non interessa Gli articoli Queste cose qui A noi interessa V-commerce Ci interessa V-commerce E ci interessano I prodotti di V-commerce Come vedete V-commerce organizza I prodotti In ordini Quindi La logica di V-commerce Non solo Guarda singolarmente Un prodotto Ma guarda L'intero carrello L'intero ordine Di un cliente E questa è una cosa Molto utile Quando avete Guardiamo Iniziamo dagli ordini Ecco Anche a me va Benissimo Andiamo a braccio Allora Avete una tabella Degli ordini I clienti Effettuano Gli ordini Sul vostro store E potete visualizzarli Con un menu Con un menu Che non vedete Ma se a voi Vai internet Vedete Nel quale avete La possibilità Di mettere in pausa L'ordine Per poterlo elaborare E inviare delle notifiche Via mail Ai clienti Per raccontargli Le varie fasi Dell'operazione Farei Inizierei Proprio dal prodotto Ma vediamo Vediamolo così Se funziona Vedrai Vedrai L'e-commerce Da fuori E poi man mano Mi addentrerei Usiamo un altro sito Usiamo un altro sito Allora Come vedete Abbiamo qui V-commerce Con la gestione Degli ordini In questo caso La gestione Anche delle fatture Vi spiego Faccio un passo indietro Parlandovi di WordPress WordPress funziona Tramite dei plug-in Dei widget Con dei menu Nasce come Servizio di blogging E poi Si è ampliato E diventata Una cosa Allora Mantenere Ok Allora In questo caso V-commerce Che cos'è E' un plug-in Che si installa Sul nostro sito WordPress E serve Per fare gli acquisti Ho deciso di Provare a fare Questo workshop Con V-commerce Perché alla fine La logica La base di V-commerce E' più o meno La stessa logica Di plug-in simili Che servono Per vendere Competitor O altro Cioè V-commerce Bene o male Ha un approccio Che una volta Imparata la logica Usate poi sempre Questo approccio Anche con altri plug-in Come vi dicevo Vi create Il vostro prodotto Il vostro prodotto Ha delle categorie Queste categorie Vi sono utili Per poter Indirizzare un prodotto Nel menu del sito Quindi poi Vediamo Qua vi faccio vedere Un sito che non è purtroppo Quello che ho preparato Come vedete In questo caso Abbiamo un menu Ho chiesto il permesso Per poterlo fare Per poter usare Questo sito Al proprietario E Come vedete Il menu Ha dei sottomenu E queste sono Le varie Categorie Di prodotto Che noi inseriamo In fase di creazione Di un prodotto E in maniera dinamica Si spostano poi Su questo menu Andiamo subito A creare un prodotto Così Voi se riuscite Fatelo Con me Sul sito Se funziona Allora Aggiungiamo un nuovo prodotto E vediamo la struttura La struttura è abbastanza simile A quella di un post Chi Un minimo ha utilizzato Wordpress Non nota Molta differenza A livello grafico Allora Inserite il titolo Del prodotto Una breve descrizione Di questo Adesso io qui Vi farei anche vedere L'altra parte Così vi faccio vedere In maniera simultanea La creazione Di un prodotto E un prodotto Di come lo vede Il cliente Finale Allora Andiamo a vedere qui Allora Come vedete Il prodotto appare in questo modo C'è un titolo C'è un prezzo Che in questo caso è variabile Perché potrete anche inserire I prezzi variabili Perché avete Diverse opzioni di acquisto In questo caso Quindi Potete scegliere La misura In questo caso del prodotto Una piazza o due piazze Quindi potete impostare Tutte queste variabili Sul vostro store Allora A chi funziona Proviamo A creare un prodotto Perché anche qui Il targeting del prodotto Cioè Gli e-commerce sono tantissimi I prodotti da vendere Io non so Qui ci sono degli interessati Ad un e-commerce Che hanno un'idea Vorrebbero provare A costruirne uno Ok Uno Il prodotto Due Benissimo I prodotti che vorreste vendere Che cosa sono? Per l'igiene Ok 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 E quindi Avrai delle variabili Che sono di peso Sono di colore Sono di volume Altro tipo di variabili Queste variabili Le vedremo più avanti Si inseriscono Qui mettete il vostro titolo prodotto Tipo mettiamo Cuscino In questo caso Una breve descrizione Qui esattamente Questo è il menu Dei post di wordpress Quindi non cambia niente Fino a qui Uguale la gestione Delle categorie Esattamente quella Di un post Quello che cambia Che comincia a cambiare E questo La gestione Del prodotto Avete questo menu Quindi col prezzo Potete Mettere il prezzo Di listino E un prezzo in offerta Potete Potete Poi gestire Le tasse Quant'altro Avete una gestione Dell'inventario Ecco Chi fa un e-commerce Deve tenere in considerazione L'inventario Non può essere Lo stesso del negozio L'inventario Deve avere una gestione Separata Questo per una questione Di fatturazione Siccome online La fattura Non può essere fatta Dopo la vendita Deve essere emessa Automaticamente Voi dovete avere Una gestione Del magazzino Che permetta questo E quindi deve essere Contabilizzata A parte Per farvi un esempio Pratico In un negozio Come questo C'è L'attività fisica Che vende I suoi prodotti E c'è un piccolo Un piccolo magazzino Dedicato Alle vendite online C'è un problema Di organizzazione Subito Perché Che se io In negozio Non ho la merce Che mi chiede Un cliente Fisicamente Posso vendergli Quella del magazzino Ma mi devo ricordare Di andarla a stornare Quindi Se io invece Non ho un prodotto In questo inventario Qui posso decidere Se farlo sparire Dall'indicizzazione Del sito Oppure mantenerlo E lasciare La quantità A zero Però Dare la possibilità Ad esempio Al cliente Di contattare Il venditore O quant'altro Io Solitamente Consiglio Di rimuovere Il prodotto Anche perché Poi La navigazione Del cliente Deve essere Veloce Quindi Il cliente Non può perdersi In prodotti Non acquistabili Deve poter Vedere solo Cose che può Acquistare con un clic E questa è la logica Di un e-commerce Altrimenti Come dire Il principio Dell'e-commerce Va a morire Se io comincio A navigare In un catalogo Vuoto Non avrò più voglia Di navigare In quel catalogo Anche perché Il mio obiettivo Se sono lì È acquistare Quindi Questo inventario Gestito separatamente E le spedizioni Affrontiamo anche qui Il tema delle spedizioni Il tema delle spedizioni Può essere affrontato In diversi modi Voi potete avere Un contratto Stipulato con un corriere Diverso dal contratto Stipulato con un altro corriere Potreste vendere Un articolo Alla settimana E al vostro store Va bene così Perché voi Sopravvivete con tanto Oppure potreste vendere Sette o otto articoli Al giorno In base Alla modalità Del Di funzionamento Dei prodotti Del vostro store Dovete decidere Con Col corriere Come approcciarvi A queste spedizioni Le spedizioni Possono essere Molto onerose E qui WooCommerce Permette L'inserimento Di un prezzo Anche legato Alla territorialità Delle spedizioni O quant'altro Quindi anche Sì Sì Allora Qui entriamo Nel grande campo Dei plug-in Il problema Non è tanto Nel creare un plug-in Che lo faccia Il problema Sta nel fatto Che la tua cassa Il negozio Deve essere Perennemente online E quindi Non è tanto Concepire il plug-in Perché non è Una cosa Impossibile Anzi È difficile Già insegnare Ad uno Che è abituato Al commercio La logica Di un e-commerce Quindi cominciare A comportarsi Non come Una vendita diretta Ma Avere l'approccio Della vendita online Diventa Molto Molto ostico Spiegare a qualcuno Poi Il funzionamento Di una cassa online Che Ti dico Non so neanche Quanto potrebbe costare E cosa potrebbe cambiare C'è chi me l'ha chiesto Io Ho subito Glissato Dicendo Allora La finalità di un e-commerce È lavorare Poco tempo Ottimizzare tutto Cercare di automatizzare Tutti i processi E avere Un ritorno Per mantenere il sistema Se Se tu hai un business Ampio Ti consiglierei Di fare Quel ragionamento Se tu hai un business Legato A quello Che io adesso Sto raccontando Cioè Un e-commerce Per piccoli imprenditori Per chi vorrebbe testare L'approccio All'e-commerce Te lo sconsiglierei No ma sai cos'è il problema Il problema è che Le due tipologie di vendita Non sono neanche legate Ad una stessa filosofia Cioè Lo stesso articolo Alla fine Ha un costo strutturale diverso Alla lunga Perché magari Vendere un cuscino Quando devo avviare un e-commerce I primi sei mesi Il primo anno Sicuramente Non ci guadagnerò niente Perché ho una fase di avviamento Il negozio Magari è un'attività avviata Da 15 anni Non ho questo problema Questo costo poi Nel tempo Varia Quindi avere anche Una gestione separata È utile Per potersi permettere Una Una manovrabilità Differente Rispetto al prezzo finale Che poi online È quello che guida il cliente Certo Io mi faccio un discorso generale Allora Un e-commerce Allora Qua parliamo anche di Un attimino di logica Di avviamento di un e-commerce Un e-commerce Per partire Non deve guardare I costi strutturali Cioè Eventualmente Creare Un plug-in Da zero Usarne Di già pronti Metterli insieme O altro Sono tutti costi risori Per un e-commerce Perché un e-commerce Ha una finalità Diversa Che è l'autosostentamento Nel lungo periodo La grande spesa Non siamo noi Cioè Eventuali Programmatori O social media manager O altro La grande spesa È la spesa in pubblicità viva Cioè Bisognerebbe Prima di aprire un e-commerce Capire che Per avere un'attività Di questo tipo Devi mettere A budget Per sei mesi Per un anno Per un periodo di avviamento Un tot di denaro Un e-commerce Che abbia una sostenibilità Non può pensare Di averla Faccio delle cifre Perché ho degli esempi numerici Un e-commerce Che può arrivare Dopo un anno A vendere Perché funziona Perché è ben strutturato Parlo sempre di piccoli business E arriva a vendere 8-10 mila euro al mese Di merce È un e-commerce Che ne spende Almeno mille In marketing E sono costi vivi Sono costi di pubblicità Che non vanno Allo sviluppatore Non vanno A social media manager Allora Il lavoro Di una persona Che strutturi Questo sistema Sta anche nel dare I giusti consigli Ad esempio Togliersi del lavoro Anche se non conviene Un'attività Che è già avviata E ha già delle commesse Ha già dei dipendenti Difficilmente Alla lunga Accetterà La gestione di un esterno Una volta che ha capito Il meccanismo Cercherà Di gestire tutto internamente Quindi Non c'è un business Remunerativo Per un tecnico Sulla gestione Di un e-commerce Si possono pensare Dei contratti Mensili A lunga durata Quindi io ti do Una gestione Sul lungo periodo Mi dai un forfettario Oppure Come è già capitato Abbiamo anche provato Ad avere una percentuale Sulle vendite Ma questo Alla lunga Non fa felice Chi vende Perché chi vende Quando si lamenta E vuole Che tu venga pagata A percentuale Quando l'attività Non è ben strutturata Avviata Ma quando l'attività Va da sola Lui capisce Che con 20 minuti Di lavoro al giorno Guadagna 2-3 mila euro al mese Dice no aspetta Vi voglio per me Perché alla fine Il sistema è fatto Quindi io penserei Per aprire un e-commerce Consiglierei Di pensare Ad una spesa Da mettere Mensilmente E in maniera Continuativa Nel tempo Per testare anche L'annualità Perché Io come faccio A sapere Che il signore Vende quella merce Solo a gennaio O solo a luglio Lo scopro soltanto Se almeno Un'annualità Per guardarmi i dati Vedere un attimino Con la stessa costanza Quanto muove In maniera organica Poi La vendita C'è chi vende Prodotti stagionali Ma li vende anche Fuori stagione Perché magari Ha dei periodi Di Di sconti Di offerte E quant'altro Bisognerebbe Secondo me Monitorare tutto Ad ampio respiro L'esempio che faccio sempre È Quando tu apri un bar Hai dei costi strutturali Subito E hai l'affitto Tutti i mesi E poi Rientri in Dieci anni Magari delle spese Di avviamento Con un e-commerce È probabile rientrare Delle spese Anche in sei mesi E non è Un'invenzione Cioè Un e-commerce Chiaramente il prodotto Si deve vendere Non può essere un prodotto Abbiamo Guardato Lo store Di Di una serigrafia Che voleva vendere Online Le sue lavorazioni Il problema è che Non ha mercato Una serigrafia di provincia Online Perché non può competere Con i prezzi E non c'era verso Di farglielo capire Cioè Continuiamo a dirgli Ma guardate che Per certi tipi di servizi La rete Non è Come dire Il campo giusto Invece Per altri servizi Secondo me Sì Torniamo sul pratico Vi faccio vedere Allora La parte più importante Del Scusate Mi sono perso La parte più importante Del WooCommerce Sono le impostazioni Usciamo un attimo Dal prodotto Allora Come vedete qui Avete Tutte le impostazioni Del vostro negozio Nel menu in In alto Avete prodotti Le imposte Le spedizioni Il check out E le eventuali E-mail Allora Qui è il core Di WooCommerce Questa è la prima cosa Da guardare Quando provate A creare Il vostro e-commerce Questa sezione Quindi Chi può Che ha il computer Che funziona Gli diano Un'occhiata più approfondita Qui In In maniera generale Avete L'indirizzo del negozio Località E quant'altro Allora Si carica Ok Allora La schermata si raggiunge Da WooCommerce Dal menu di WooCommerce In impostazioni Praticamente il cervellone Del vostro negozio Sta qui Sta in questa sezione Il resto È esattamente La stessa logica Di un qualunque post Di WordPress Aggiungere Rimuovere Vi dirò di più Questa logica È adottata anche In store Che vendono prodotti Di tipologia Differente Rispetto a un e-commerce Come ad esempio L'e-learning O altre cose Cioè Se trovate plug-in Dedicati Non vanno tanto lontani Da questa logica E da questo approccio Quindi Vi ricordatevi Questo è il primo passo Installate WooCommerce Venite qui E qui in maniera scrupolosa Guardate bene tutto Perché tutti i problemi Nascono da qui Allora Potete Dire le unità di misura O quant'altro Come dicevo prima Non tutti possono avere Le stesse unità di misura Magari qualcuno Vende A spanne Un altro a centimetro Un altro Per lui è più importante Il peso L'altezza La lunghezza Dipende Qua impostate le cose E poi le tasse Le tasse L'IVA Al 22% Va impostata qui Eccola lì Allora Qui abbiamo le opzioni Generali E poi le aliquote standard Nell'aliquote standard Mettete l'IVA Allora WooCommerce Vi dà la possibilità Di scindere le tasse Anche rispetto Alle spese di spedizione Cioè voi potete Se volete Dare delle spese di spedizione Standard Io decido che 5 euro è la mia spesa standard Di spedizione Senza tasse È un forfettario Perché ho fatto i miei conti Ed è quello Altrimenti potete decidere Di mettere l'IVA Anche nelle spese di spedizione Chiaramente Io consiglio di metterla Perché poi voi Col commercialista Che questo è un capitolo Che questo è un capitolo a parte Molto ostico Dovete poi Pagarle quelle tasse Quindi Io consiglio sempre Di mettere le spese di spedizione Con l'IVA In maniera chiara Già in fattura Che siano separate In maniera chiara In fattura Che siano le due voci separate Perché molti commercialisti Non vogliono gestire Il vostro e-commerce Non gli piace E quindi Vogliono le cose semplificate Si lamentano del fatto Che non ci sono le voci separate Quindi dovete essere molto chiari E in questa fase Potete dividere Ogni voce Nel checkout finale A fine mese Vi scaricate le fatture Da quella famosa finestrella Degli ordini E le mandate al commercialista Oppure con un plug-in Le mandate in maniera automatica E via Perché Il bello dei plug-in È che Non hanno limiti Cioè Si evolvono in base alle vostre esigenze Un esempio pratico Il plug-in Per inserire il codice fiscale Nelle fatture Adesso C'è Ma Due anni fa Era Quasi impossibile trovarlo Gratis Cioè Erano plug-in Difficili da reperire Eppure qui la normativa era cambiata E le cose Non si erano ancora adeguate Ora Qui non è una questione solo di normativa È una questione di vostre esigenze Con Wordpress V-commerce Questi mezzi Secondo me Potete Più o meno Avere tutto quello che Che vi serve per partire E poi se avete bisogno di strutture più grandi Di cose più complesse Secondo me Non è una cosa che avrete In un anno Cioè È una cosa È un'esigenza che Verrà dopo E quindi L'approccio iniziale Secondo me È questo Vedete Lì le tasse al 22% Potete mettere anche Delle tasse variabili Potete Perché ad esempio La cosa più comoda È vendere in Italia E avere Un territorio circoscritto E basta Però Non è Non è vietato Vendere anche all'estero In questo caso Venite qui Vi impostate Le imposte estere Il target di territorialità E fate tutte le modifiche Da queste schermate Sì Sì Allora Sì No 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 Lo so Allora Lui le separa come logica Perché tu Devi poterle gestire In maniera separata Poi sta a te Valutare Come impostare Il template del tuo sito Allora WooCommerce Per chi non lo sapesse Ha un tema Ha un template Che può essere modificato Che è La veste grafica Del sito web Poi ci sono I vari widget Che compaiono In questa In questa struttura I plugin Che sono le funzioni Che tu puoi mettere O togliere E i menu Cioè sostanzialmente I concetti Sono questi Sta a te Decidere Come piazzare Graficamente Queste cose Il mio consiglio Il mio consiglio È che in maniera organica Sul tuo sito Ci andrà pochissima gente Quindi Le persone arriveranno Sul tuo sito Drogati dalle campagne A pagamento Vuoi per Google AdWords Vuoi per le campagne Sui social media Arriveranno Reindirizzati Sul tuo sito Quindi se le campagne Sono mirate Arriveranno Su una pagina specifica O su prodotti specifici Quindi La home page Può essere un biglietto Da visita Può essere lo shop Può essere quello che desideri Dipende sempre Dal tuo focus Dal tuo obiettivo Quindi in base Siccome gli e-commerce Possono trattare di tutto Non c'è una regola Cioè Bisognerebbe vedere Che cosa vendi E poi impostare Quella prima pagina Quello che io consiglio È una navigazione veloce Bisogna arrivare Con pochissimi click E essere subito sul prodotto Quindi Niente fronzoli Niente descrizioni lunghe O altro Bisogna in pochissimo tempo Arrivare al prodotto Le descrizioni Devono essere concise In 30 secondi Il cliente deve capire Di cosa si tratta Ma anche meno Quindi Come? No ma lì sei obbligato Perché Sei obbligato Perché lui Tu devi inserire poi Quando acquisti I dati di fatturazione Sì Ma infatti V-commerce ha questa possibilità Cioè Fa iscrivere Mentre acquisti Ok Allora Vediamo un attimino Come è fatto il negozio Da fuori Quindi questo è un esempio Di un negozio Che però Come vedete In questo caso Per rispondere anche alla domanda Qui c'è il menu C'è un banner E poi ci sono C'è la pagina Del negozio Direttamente Con gli articoli In offerta O altro Nel menu In questo caso C'è una tab iniziale Con Il menu può essere Come Ecco qua In questo caso C'è una tab iniziale Con I termini di vendita L'attività Chi sono Chi non sono E poi parte Direttamente Partono le sezioni Dei prodotti Allora Voi lì non lo vedete Però Ci sono anche Menu Legati a brand Saldi Ecco Quando si fanno Le campagne online La sezione Dei saldi Delle promozioni Deve essere molto spinta E quindi Dovete avere Questa sezione Molto ben rifornita E controllare la rete Perché Un e-commerce Non competitivo Se io con due click Posso vedere che Acquisto lo stesso articolo A meno Ma anche poco Anche un euro A me per quel click Io ho risparmiato l'euro Quindi a quel punto Valutate Se Mi sono trovato Dei negozianti Che vendevano molto E poi improvvisamente Hanno iniziato a non vendere O comunque Non come prima E si sono cominciati A lamentare Dicendo Eh ma non funziona qualcosa Senza dirmelo Avevano alzato i prezzi Dello store Allora gli ho detto Aspettate Perché qua Non c'è una cosa Che bisogna capire Prima di fare Tutto Io non sono Un vostro competitor Io sono il vostro socio Cioè A me le cose Le dovete dire Non mi potete Trattare come un dipendente Pigro Che va Spinto A produrre di più Perché la produttività Lì Una volta che tutto è regime Non va oltre È quello Quindi tu Quando hai visto Che è quello Non puoi pensare Che col trucchetto Mentendo A chi si occupa Del sito Puoi ottenere di più No Così rovini tutto Perché Questo lavoro È un lavoro Basato totalmente Sulla fiducia Io mi devo fidare Del cliente E lui si deve Totalmente fidare di me Altrimenti qui Mancano proprio I requisiti Per collaborare In questo caso È stato un esempio Perché io poi Me ne sono accorto Dopo un mese Ma per un mese Cioè Ho studiato sette camicie Per capire dove stava il problema Poi dopo un mese Ho capito che Guardando online I suoi prodotti Non erano più economici Come prima Ma aspetta Ma tu non li puoi vendere Tornando al negozio Non li puoi vendere Allo stesso prezzo del negozio Se prima costavano meno La gente Se ne accorge Fa una ricerca online Tu lì sei nudo Non puoi ricorrere a trucchi E quindi poi Abbiamo capito Che non doveva più farlo Però ecco State attenti Perché non potete gestire Un e-commerce Pensando che sarà Esponenziale la crescita Ci saranno questi primi mesi Questo primo anno di avviamento Dove prenderà Forma Però poi Dovete fare un ragionamento Perché magari raggiungete La vostra mediana Non andate oltre E quindi su quello Decidere poi Sull'annualità Quanto investire In pubblicità Determinati mesi E quanto In altri periodi Poi parlando di numeri vivi Se voi avete delle stagionalità Avete dei periodi di picco Ci sono dei mesi In cui vendete di più E dei mesi in cui non vendete Quando non vendete Non dovete sparire dalla rete Non dovete azzerare Il vostro budget di marketing Dovete avere comunque Un pilota automatico Che vada A un regime minimo Un altro modo Per uccidere velocemente Un buon lavoro Magari fatto in due o tre anni E smettere di investire soldi Smettendo di investire soldi Non fatturerete nulla La valutazione che dovete fare Investendo un tot Fidandovi del vostro tecnico Del vostro social media manager Dandogli un atto di fede Perché poi il suo guadagno È che voi continuate a vendere Lui continua a lavorare per voi Quindi fidandovi di lui Dovete poi valutare Se l'attività è sostenibile Questa è una valutazione Che aspetta a voi Non è una valutazione Che potete rimettere in mano A un tecnico Perché alla fine Proprio trattandosi Di tanti differenti tipi Di business Non c'è qualcuno Che li conosce tutti Io di solito Mi faccio spiegare Dal cliente La logica La filosofia del suo lavoro Parto con quello Parto fidandomi di lui Con quell'approccio lì Poi dopo qualche mese Scopro che magari Su certe cose si sbaglia E altre cose no Però Si parte sempre Da chi conosce il meglio settore Che non è Chi costruisce questo Sì Parliamo proprio di soldi vivi Nel senso che Lasciamo anche perdere Per fare un'introduzione Gli store Allora Un'attività Qualunque essa sia Se vuole cominciare a promuoversi online Parlo di semplici social media E a volte annunci google Proprio mirati Deve poter spendere almeno Quello Non dico quello che spende Sui giornali cartacei Ma almeno la metà Quello che dico sempre A tanti clienti Che vogliono cominciare A andare online Gli dico Ma voi non potete dare Questa serietà Ai giornali Pagando 700 1000 euro Un annuncio Su un giornale Venduto a 20.000 persone Di cui forse 1000 hanno letto Quella pagina Di cui forse 10 sono interessati Non potete dare 1000 euro Sulla fiducia A un giornale In questa maniera E online Dove potete Scegliervi il cliente Il suo territorio Il sesso I gusti Le preferenze Dargli meno serietà Allora Non dico neanche Di rompere col passato Cioè Chi è abituato In un certo modo Deve poter continuare Però Deve poter dare serietà Anche a questo Quindi Se Un'attività Di qualunque tipo Un'attività Di costruzioni Un'attività Di un negozio Che vende Fa vendita diretta E' abituato A spendere 1000 euro al mese In pubblicità Perché mette l'annuncio Sul giornale O altro Se va online Deve fare lo stesso Perché Perché Le campagne online Possono essere divise Di due tipi Quelle mirate Alla vendita diretta Con gli annunci google E allora lì tu Tiri solo a vendere E quelle Più empatiche Più emotive Sui social media Con quelle Si costruisce Il brand La reputazione E quant'altro Però sui giornali Fai lo stesso Il fatto che io Veda un annuncio Sul giornale Sulla pagina più grande Più sfarzosa E vedo sempre Quell'annuncio Dopo un po' di anni Dico Beh questa azienda Nella mia città È seria Cioè Ne ha di soldi da spendere E si fa una certa immagine Quell'azienda Online deve essere lo stesso Online devi Devi fare Una campagna Mirata al tuo brand Che non può Abbassare Certi standard E un'altra campagna Mirata alla vendita diretta Quindi Qui passiamo Poi alle campagne Dell'e-commerce Nell'e-commerce Hai il vantaggio Che hai entrambe le cose Pagandone una Cioè Chi Apre un e-commerce Nel caso fallisca Di solito Non ha solo l'e-commerce Ha anche un'attività E la amplia Aprendo anche l'e-commerce In quel caso Tu online È vero che forse Per sei mesi Un anno Abbiamo valutato Che il tuo e-commerce Non è sostenibile Ma è anche vero Che su quella logica Ti sei fatto un anno Di promozione Spinta Molto aggressiva Quindi Secondo me Anche laddove Un e-commerce Perché è possibile Non sopravviva È un peccato Sparire dalla rete Perché comunque In rete Puoi Puoi sceglierti il cliente È un potere che Non ti può dare nessun giornale A parità di prezzo Poi Non c'è nessun paragone Parlando di cifre Io Non lancierei Con meno di 500 euro Al mese Di pubblicità Viva Un e-commerce Proprio vado dal cliente E dico No io non te lo faccio A quelli Devi sommare I costi Di gestione E quant'altro Dipende Poi Perché Se un e-commerce Si sostiene Io sono arrivato A gestire Anche 2.000 3.000 euro Al mese Di pubblicità Su quelle cifre Io Non essendo pagato In percentuale Io continuavo A prendere Le mie Due, trecento Quattrocento euro Al mese Quindi Manovravo Tutto questo monte Di denaro Ma non ci guadagnavo Niente Nel senso Il mio vantaggio In quel caso Non era che lui Vendesse di più Era che lui Continuasse A Restare online Perché questo Mi dava un lavoro Per quanto piccolo Quindi quello che consiglio È Non provare A costruire un e-commerce Pensando che Poi È come il sito Tante attività Investono 4-5.000 euro In un bel sito Poi vai a vedere Un sito in wordpress Che fai in due giorni Con un bel template Magari E l'agenzia Si è fatto Un bel weekend Con quel sito Però poi Se vai a vedere Con analytics Le visite Quel sito È visto da 3 persone Alla settimana Che sono i proprietari Del sito Allora io dico Ma aspettate Ma perché fate Un ragionamento del genere Se voi avete un sito Bello E ci tenete È perché lo veda La gente E allora perché Invece di investire Tanti soldi Subito Non provate a ragionare Investendo Pochi soldi E sempre Avreste più Ritorno Perché avreste Quello che desiderate Cioè la visibilità Dimmi Certo Allora È una mentalità Che uccide un po' L'impresa Nel senso che Non puoi pensare Di andare online E sperare Di affidarti Al gratis Nel senso che No però Diventa anche Una questione di branding Sui social Avere tanti like Tanti follower Avere Un seguito Corposo Lo sapete meglio di me Molti di voi Conoscono bene Facebook Facebook ha Continuamente Modificato il codice E adesso Le pagine Che hanno avuto Investimenti cospicui Per raggiungere 20-30 mila like Hanno una copertura Organica Di mille persone Allora Capisci che Se chi Avesse avuto Quella mentalità E avesse investito Due Trecento euro Al mese Per ampliare La propria pagina Per tre anni Ora si ritroverebbe Con un pugno Di mosca in mano Perché in maniera organica Raggiunge Gli utenti Che potreste raggiungere Con due euro Allora Serviva a spendere Tutte quelle centinaia Di euro Ecco perché Invece di avere Un approccio Di questo tipo Preferisco pensare E ragionare Sul fatto che Quello che spendete Online Rimane Perché È come dire L'annuncio Sul giornale Di due mesi fa È morto Ha buttato i soldi Però è così Invece Online Non ragioni così Online Pensi che rimanga Ma può morire uguale Non c'è niente di male Tu ragioni su quel periodo Tu non investi Come dire Oggi per diventare Un big domani Perché non è scontato È fede quella Tu investi per avere Una costanza subito E poi quella Con il tempo Può diventare Sempre più grande In maniera organica Io non punto Poi ci sono agenzie Che ti dicono No noi facciamo I post talmente ben fatti Che in maniera organica Raggiungono tot persone Ho capito Ma paghi Talmente tanto L'agenzia Per avere quel risultato Che converrebbe Spendere meno Con gli annunci Come Qui parliamo di vendita diretta Qui parliamo Di brand A lungo termine Quindi quella pagina Potrà sempre aumentare Se tu continui Ad esempio Parliamo dei social Abbiamo un'attività Come questa Questa attività È una pagina Facebook Allora La pagina Facebook Da un lato Ha l'esigenza Di avere Una credibilità Perché Non compri online 300 euro di materiale Su un sito Che ha una pagina web Seguida da 150 persone Dici Magari mi frega C'è ancora molto pregiudizio Per gli acquisti online E quindi devi avere Una pagina corposa Che dia tranquillità Al cliente Allora Per raggiungerla Devi spendere Devi spendere oggi Più o meno Tre volte di più Di quello che spendevi Due anni fa Per raggiungere Lo stesso obiettivo Però Se tu non ti metti fretta E lo metti Come dire A regime Con la spesa Ad esempio Io su una pagina Che ormai Tra virgolette Ha raggiunto Quello che io Mi sono dato Come obiettivo Che sono magari 5.000 like O altro A quel punto Io gli do Una sponsorizzazione Minima 50 euro al mese Ma 50 euro al mese Sono puntati Sui like Continueranno a incrementare Piano piano Ma sempre Invece Dirotto La maggior parte Del budget Sulle vendite Dirette Perché poi Sono quelle Che ti permettono Di avere L'e-commerce Il mese dopo Se non hai L'e-commerce Il mese dopo E sei obbligato Dopo un po' di mesi Di valutazione A chiuderlo Comunque Ti ritrovi Una reputazione Di un certo tipo Online Come Sui giornali Quando fai gli annunci Cioè C'è ancora Molto discrimine Tra le due cose Io Tendo a vedere Invece Io ho il discrimine Opposto Dico no Con metà della spesa Posso ottenere di più Online Che su un giornale cartaceo Quindi punterei su quello Anche se non produce subito Dipende Ad esempio L'esempio di questo sito Ci abbiamo Gli ho detto Che ci sarebbe voluto Un anno Per auto Auto Mantenersi Ci sono voluti Sei mesi Però Però era un'attività Come dire C'era un ragazzo Volenteroso Che ci teneva A imparare E aveva una struttura Di un certo tipo Che andava quasi da sola Si inghiozzano Gli e-commerce Che poi non segui Cioè Per capirci Io non posso Fare il caricamento Dei tuoi prodotti Devi In negozio Avere Un dipendente O farlo tu E occuparti Del caricamento Dei prodotti Altrimenti Ti costa Talmente tanto Cioè tipo In questo caso Se voi guardate Le foto In questo caso Queste foto Con lo sfondo bianco Lui le ha volute Fatte Da un fotografo Gli ho detto Che era assurdo Che non serviva Perché alla fine L'immagine Sul monitor È grossa Quattro centimetri Non serviva Avere Una fotografia Da quattromila pixel Per una cosa del genere Oltretutto Sono tutte Cose Che appesantiscono La pagina web La pagina web Deve essere leggera Perché altrimenti Io non clicco velocemente E mi stufo E vado via Quindi Dipende Da come è strutturata L'attività Cioè dipende Anche dal prodotto Perché il prodotto Se si vende da solo No In quel caso C'è stata un'operazione Di lancio Con dei prezzi vantaggiosi Che online Non trovavi In sei mesi Si è raggiunta una quadra Ed è rimasta lì Però Però dipende Ad esempio Il signore laggiù Vende una tolla di vernice Da cinque litri Benissimo Se io vedo che su Amazon Non la trova meno Ma la trova al massimo uguale Ma la compro da lui Tanto sono lì Se mi costa anche solo Un euro in meno Da un'altra parte Io scappo E qui entra Anche in campo L'emotività Quindi per non far scappare Il cliente Cerco di costruire Un'immagine online Dove mostro magari La fatica L'empatia Il lavoro Quello che c'è dietro E questo lo fa bene Social media Lo fanno bene i social Lo fa bene Instagram Con le fotografie Dimmi Allora La spedizione gratis È uno sciacallaggio Nel senso che Costa tantissimo La spedizione Allora Perché il problema Delle spedizioni Non sono tanto Quando tutto va bene Quando tutto va bene Va tutto bene Il problema Quando ci sono i resi Perché Ma capita a me Io ho il cancello aperto Devono venire Salire su i corrieri E bussare Non lo fanno Tante volte Vanno dritti Perché non vogliono fare Il giro E quindi A me capita Cioè nonostante Io compri sempre online Mi è capitato spesso Di non avere dei pacchi ricevuti Di avere dei resi Costano I resi I disguidi costano Perché Tu fai i calcoli Delle cose che vanno bene Però quelle non sono cose In tuo potere Capitano Disguidi V-commerce permette Di cancellare gli ordini Quando cancellate un ordine Su V-commerce Ad esempio Col commercialista Vi dovete mettere d'accordo E stornare quella fattura Il numero fatture Non potete manometterlo Deve essere tutto prodotto In maniera automatica E deve andare avanti da solo Quindi Voi dovete anche Concepire questo Voi dovete Può capitare Quando non si è esperti All'inizio Di avere magari Un paio di ordini al mese Che vadano male Questo alla fine incide Incide molto Perché tu paghi la spedizione Lui ci riprova Poi te la riporta indietro Poi nel caso Il cliente ti dica No adesso ci sono Tu gliela rimandi Ma lui non paga di più Quindi Pagherai doppio Triplo E a fine mese Pesa Un peso E infatti Nonostante Si cerchi Di abbassare i costi Di spedizione Questo è molto complesso È molto difficile Soprattutto i primi tempi I primi tempi Quando Che ne so Arriva il corriere E ti dice Guarda noi abbiamo Questi contratti Se spendi almeno 40.000 euro Poi ti facciamo Passare sullo scaglione Dopo che c'è lo sconto Se ho capito Ma tu hai bisogno Dello sconto prima Perché sei in avviamento Non dopo E quindi devi mettere in conto Quelle cose È una spesa molto grande Sì Sì No ma quelle poi Soprattutto quando il business È piccolo Capite bene che Voi inizialmente Dipende sempre Dal prodotto Però voi potreste Avere uno store E vendere prodotti Di un certo peso A livello di prezzo Quindi prodotti Da 200 euro Venderne anche Una settimana Inizialmente Però quelle quattro spedizioni Non costano poco Alla fine Non costano per niente poco Costano poco Sulle grandi quantità Allora Cos'altro farei vedere Parliamo Parliamo dei social Allora Parliamo di come spenderli Questi soldi in marketing Allora La logica Vuole che Su Google Abbiate una campagna Annuncistica O servizi simili Comunque Quindi Annuncio diretto Tanti piccoli annunci Nel caso abbiate Tanti piccoli prodotti E lì Avete subito Un risponso D'altro canto Non potete abbandonare I social Perché diventano Come dire Cogliete le persone Nel momento Migliore Cioè quello di svago Soprattutto quando Quando le persone Si svagano Sono predisposte A comprare A guardare Quindi avere uno store Che diventa poi Un catalogo online Da sfogliare Facile da sfogliare Con i prodotti Già a disposizione E andare a prendere Questa gente Sui social media E diventa Una cosa Che può Portare Molto ritorno Poi chiaramente Dipende sempre Anche lì Dal prodotto Perché Se sono su Facebook Difficilmente Comprerò il bianco Per dare il bianco A casa Se sono su Facebook Penso magari Ad un orologio Ad una cosa Ad una chincaglieria Quindi anche lì Bisogna valutare Un attimino Che cosa si vende E dove Appoggiarsi In maniera più Più corale Con l'investimento Cioè Se su Google O su Facebook Google anche Purtroppo Ha cambiato molto Del suo Del suo business Con AdWords Perché i risultati Che produceva Qualche anno fa Non sono purtroppo Quelli che produce adesso Le conversioni Soprattutto Sono diminuite Con Google Avete Il vantaggio Che Superata Una soglia di spesa 10 euro al giorno Che è pochissimo Per chi Si vuol prendere Un po' sul serio Potete avere Il servizio dedicato Chiamare Il personale Lo svantaggio Sia con Google Che con Facebook Che con qualunque Strumento online È che questi servizi Purtroppo Se avete un problema Serio Non vi servono a molto Perché dall'altra parte Vi trovate Dei call center Cioè Vi trovate Delle persone Che non sono Proprio Preparatissime A rispondere A tutte le esigenze O problematiche Questo capita Con Facebook Se dovete andare A modificare qualcosa Della pagina Di un po' particolare Capita con Google Se ci sono dei problemi Al sito Perché a me Ad esempio È capitato Un problema Ad un sito Mi ha bloccato Le campagne Su Google Ma io non ho fatto Nessuna modifica Ho fatto vedere Il sito A tre agenzie diverse Perché ho detto Magari io sono stupido E nessuno Trovava problemi E Google Li vedeva Però io cercavo Di ragionare Con queste persone Ma loro mi rispondevano Io non lo so Perché io Non le conosco Queste tematiche E quindi Quando poi ci sono I problemi Purtroppo vi dovete Rivolgere Ai professionisti Perché i servizi O i call center Di questi servizi Non vi bastano più Allora Quanto tempo abbiamo? Abbiamo ancora mezz'ora Io farei qualcosa Chi è riuscito A fare dei prodotti A vedere un attimino Ok Si 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 Allora In una prima fase Ad esempio Le variabili Dei prodotti Di WooCommerce Non permettevano Il caricamento Di fotografie Quindi Adesso non l'ho più controllato Però ai tempi Non lo permettevano Il cliente mi diceva No io voglio le variabili Che siano Delle fotografie Particolari Delle cose A quel punto Ricordatevi che Si ricorre A dei plug-in Allora Ad esempio C'è il banchetto Là fuori Che fa proprio Plug-in Per WooCommerce Quindi Vi sbizzarite In uno di questi siti Per plug-in E già lì Potete vedere Moltissime cose Anche gratuitamente E cominciare A vedere Come impostare Il vostro E-commerce Come affrontare Tutte le problematiche Che vi capitano Ad esempio Io oggi Ho fatto 60 account Per farvi lavorare Poi è successo Che l'host Mi ha detto Vai a quel paese E non l'avete potuto farlo Se avessi usato Uno dei plug-in Iost Lì Loro mi hanno detto Che l'hanno sviluppato Perché serviva loro Per lavorare E poi l'hanno messo in vendita Con quel plug-in Avrei potuto crearvi La stessa cosa Con un click E probabilmente Avrebbe retto meglio Sull'hosting Quindi Plug-in In base alle necessità Poi vi servono E vi ottimizzano Vi fanno risparmiare Un sacco di tempo Per chiaramente Creare le cose manualmente Averle con un click Non è la stessa cosa Allora Sulle variabili prodotto Andiamo sugli attributi Vedete? Qui ad esempio Abbiamo tre tipi di attributi Come? Sì sì Si clicca Semplicemente Cioè Quelli Quelli si creano manualmente Cioè Li create voi Li create voi Praticamente Gli attributi Ci sono quest'ultima Linguetta Qua Voi Avete la possibilità Di creare Categorie Che vanno A Rendervi dinamico Quel menu Nella presentazione Del sito Avete la possibilità Di creare i tag Relativi ai vari prodotti Quindi Uno può fare la ricerca Tramite tag O comunque Sono molto utili Per l'indicizzazione organica Online La possibilità Di inserire gli attributi Gli attributi Come vedete In questo caso Sono attributi Cioè Colore e misura Sono cose Logiche Fantasia Cos'è la fantasia? Cioè È una cosa Che ha inserito lui Perché a lui Serviva Quell'attributo Quindi se l'è creato L'ha inserito Quindi gli attributi Potete Inventarveli Come preferite In base Alle esigenze Che avete Come prodotto Allora Andiamo a vedere Le fatture Come vi ho detto prima Devono essere Allora Un attimo Piccola parentesi Sulla fatturazione Le fatture Non possono In nessun modo Essere manomesse Da voi Cioè Laddove ci sia Un errore Laddove sono partite Dieci ordini E siete stati disattenti E manca un dato Dovete chiamare Manualmente Il cliente E rifarle Una per una E quelle fatture lì Mandarle al commercialista E stornarle tutte Non potete fare finta Di niente Non potete Questa è una grossa Problematica Per chi Inizia ad avere A che fare Con gli e-commerce Perché Dice vabbè Ma cancelliamo Tanto No Questo è importante Non si può fare Non si può fare E non deve essere Assolutamente fatto Anzi Se c'è un sito Che permette La manomissione Delle fatture Quel sito Non rispetta La legge Cioè Dovete cambiarlo Assolutamente E Prego Prego Allora Allora Che io sappia Lo devi soltanto Dire al commercialista Per la gestione Separata Delle due fatturazioni Perché L'attività L'attività Non è nuova L'attività È la stessa Cioè Io parlo Ad esempio Nel caso In cui hai già Un'attività Perché chiaramente Se hai un'attività Nuova Dovete andare A aprire La partita IVA E quant'altro Quindi Chiaramente Però Solitamente Gli e-commerce Vengono aperti Da chi ha già Un'attività Chi ha già Un'attività Sotto In basso Nel sito Ha tutti i dati Dell'attività Non cambia niente Questa è la stessa Attività Non è Sei tu Che la gestisci In maniera Separata Come contabilità Per avere Questa plasticità Di manovra E per far Lavorare Il commercialista Che deve avere Da una parte Scontrini o fatture Emessi da te Per la vendita diretta E dall'altra Fatture Automatiche Senza possibilità Adesso mi dici una cosa Qui se c'è Alessandro Se segnala la comune Può essere Può essere Michele Ok C'è il tecnico A cui potevo chiedere Ma è uscito No Non lo so Non lo so Io non l'ho fatto Mai Quindi Ma io non ho fatto Neanche quello che diceva Alessandro Prima Cioè Allora C'è il grande problema Del GDPR Che dal 26 Di maggio Cambierà tutto Allora Io mi sono informato Su questa cosa Perché Sono molto interessato Perché mi ritroverò A un certo punto Con il cerino in mano Con gli store E i clienti Che mi dicono Che faccio Ora Sto facendo Mandare a tutti Una PEC A me Per chiedermi informazioni Io a questa PEC Sto rispondendo In questo modo Sto dicendo Se non tratti tu I dati Non devi fare niente I dati Solitamente Tu non li tratti Perché Perché questi servizi Di trattamento dati Li fai fare Nel caso delle campagne Google A Google Nel caso delle campagne Facebook A Facebook In realtà Alessandro Prima mi ha messo Un po' Il campanello D'allarme Perché ha detto Che non è proprio così Quindi Bisognerà anche lì capire Allora Giù con un pezzo C'è nella community Wordpress Un team Che si occupa Di Inserire Nel core Di Wordpress La gestione Della GDPR Non è ancora Pro Applauso Tra l'altro Su Slack internazionale Se volete C'è un canale Aperto Dove c'è Pascal Che è una persona Che vive in Bel In Italia Beh comunque Una persona Che parla tante lingue E comunque Anche italiano E c'è anche un canale Sullo Slack italiano Che si chiama GDPR Compliance Quindi l'idea è quella Di fare in modo Che Wordpress Autonomamente Sia GDPR Friendly Non è Ancora così Quindi ci stanno Lavorando sopra Visto che Appunto La GDPR È qualcosa che Si sta ancora In parte Definendo È un work in progress Però L'obiettivo Della comunità Wordpress È quello di fornire Che usa Wordpress La più semplice Modalità Per poter essere In regola Allora Oltretutto Io sono stato Una settimana A cercare di capire Cosa stava succedendo E dagli stessi Pareri legali Che si leggono online Sono abbastanza contraddittori Ho visto che Alessandro Prima era molto ferrato Perché in dieci minuti È riuscito A dare un sacco Di informazioni Quindi Consiglio anche A me stesso Poi di andarmi A prendere La sua mail E rompergli le scatole Perché purtroppo Una delle difficoltà Degli e-commerce È non trovare Professionisti Abbastanza afferrati Su queste tematiche Ho trovato Difficilissimo Rapportarmi Con i commercialisti Di una difficoltà Immensa Commercialisti Ma vi faccio Un ultimo esempio Banale Fatturazione Facebook Siccome Avete a che fare Con un sacco Di fatturazioni Perché ogni mese A fine mese Dovete poi Mandare Al vostro commercialista Le fatturazioni Di costo vivo Delle pubblicità Pensavo Nei piccoli Business Piccoli piccoli Neanche di e-commerce Solo di Marketing online Di poterle Anticipare io Queste spese E quindi Non pensavo Ho studiato E mi sono andato A vedere le cose Ho anticipato Queste spese E poi ho detto Tanto le metto Come costi In fattura Al cliente Come ho concordato E fine No Il commercialista È andato in crisi Abbiamo avuto Due appuntamenti telefonici E uno fisico Per capire Come fare E io Ho detto Francamente Ma che Si tratta Di società Che hanno sempre Sede all'estero Non si capisce Se devi fare Delle procedure Diverse In realtà No In realtà Poi abbiamo scoperto Che era Come dicevo io Cioè La cosa più semplice Del mondo Ma intanto Far solo dire Da un commercialista Significa farlo studiare Si erano messi in tre A capire Cosa stava succedendo E ti parlo Di 400 euro Al mese Di spese Cioè Non ti parlo Di chi Pagare l'iva Su 400 euro Niente di Colossale Però L'abbiamo andati in crisi Alla fine L'abbiamo E' vinto Che devo Spendere i soldi Direttamente al cliente Per me è un problema Perché Perché se tu Vuoi aprirti un e-commerce O vuoi promuoverti online Vuoi fare qualunque tentativo Solitamente mi dici Facciamo tre mesi di prova Sei mesi di prova E quindi io Per tenerti buono Non ti dico Adesso Fatti una carta di credito Un account google Che non ce l'hai Ti mettiamo tutto lì Facciamo così Facciamo così E io devo parlare Col tuo commercialista Per spiegargli cosa fare Io cerco di Speravo Di poter fare io Invece non si può fare Ho scoperto che I commercialisti Dicono no Fagli lo spiegone Sempre E questo purtroppo È un limite in più Che scoraggia le persone A utilizzare questi strumenti Ci dovete fare i conti Allora Poi Facebook Poi Soprattutto Ha una cosa Pericolosissima Perché ha le fatture Dinamiche Cioè Genera la fattura Nel momento In cui tu Gliela richiedi Però Fuori da Quella Finestra di fatturazione Un po' prima Dove inserisci i dati Quant'altro C'è una spunta di Facebook E ti chiede Ma tu Usi le campagne Facebook Anche per promuovere Gli altri? Che è la domanda Quando Anni fa Facebook mi fece questa domanda Io Ho detto sì Non pensando Al mare di casino In cui mi sarei cacciato Cosa fa? Facebook da quel momento Dice Tu sei un professionista E ti mette Nel conto finale Ti toglie l'iva Quindi la devi pagare tu Il mese dopo Io questo l'ho scoperto Dopo quattro anni E lo faccio di lavoro Per capire la chiarezza Anche di queste cose Chiaramente Quando tu lavori In questo campo E dici al commercialista Faccio questo di lavoro Ti aspetti Che quella parte di lavoro Sia fatta da lui Ho scoperto Che purtroppo La dovete fare voi Cioè Se siete interessati Ad un e-commerce Non fidatevi Di un professionista Né del parere Di un legale Né del parere Di un commercialista Ma neanche Del parere Di chi vi dice Ve lo faccio io Il e-commerce Cioè dovete Purtroppo Essendo tematiche Nuove nell'approccio Fare sempre Il raffronto Dei pareri Vi dico Uno che Parla in maniera Tanto chiara Come Alessandro prima Non l'ho mai trovato La prima volta L'ho visto qua Quindi grazie Di questo work camp Perché Non c'è gente Così ferrata Su queste tematiche Anche il ruolo Del GDPR Non si capisce Lui diceva Appunto Saranno tre figure Per come l'avevo capita io Sarebbe una figura Ibrida Cioè uno come me Che un po' Un po' Capisce di informatica Un po' Capisce di leggi O comunque le studia E cerca di Arrabbattarsi Ok Però vedi Questi plug-in Saranno oro colato Tra un mese Quando tutti Cascheranno dal pero I plug-in Per cancellarsi Da fe Ecco però Questo De responsabilizza Ulteriormente Perché alla fine La struttura Migliore È quella Che non vi lascia Col cerino in mano Quindi Dovete cercare Di avere tutto preimpostato In maniera Da deresponsabilizzare Ogni cosa Allora Anche lì Per come avevo inteso Io il GDPR Ho scritto La PEC Ai miei clienti Dicendogli Non vi preoccupate Se voi non fate Mail in list Che utilizzate Per promuovere I vostri prodotti E non ve le faccio fare Voi non avete problemi Perché in realtà Vi affidate A servizi terzi Tant'è che Google Due settimane fa Ha mandato la mail Anche in italiano Del cambio Dell'adattamento A questo nuovo codice Scrivendo queste cose Quindi io ho proprio Capito quello Ora scopro E mi fido più del legale Che in realtà È così ma non proprio E qui finite In un campo Che secondo me Anche vi volessero Multare Sanzionare O altro Cioè Diventa veramente Un abisso Non La vedo difficile Che Anche laddove andaste In giudizio Tipo io ti denuncio Perché tu non hai cancellato Dal tuo sito I miei dati Quando tu Nella privacy Hai messo Guarda c'è il plugin Per farlo Poi andiamo da un giudice Che deve Decidere chi ha ragione E studiarsi tutte queste cose Non lo so Secondo me È utile Perché introdurrà Delle cose nuove Come il diritto all'oblio Che sarà Una cosa utilissima Anche per chi usa i social E magari Poi ha dei lavori Che poi non può Avere i dati compromessi È La novità Che secondo me È l'unica utile Quella Di introdurre La denuncia Del sito Se i dati Vengono compromessi Cioè Il sito poi diventa Obbligato A dirti Guarda che È stata compromessa La sicurezza Dei tuoi dati Tu sai che Quella password Te la devi cambiare Velocemente Altrimenti Perché poi Lo sappiamo Siamo tutti un po' pigri Quindi una volta Messa una password La mettiamo in più Postazioni Allora Ok Prova a farlo Qua Visto che ci sono le magliette Se va Funziona Lo faccio qui Allora A mio avviso V-commerce Solo senza plug-in È più che completo Poi Poi dipende Cosa fai Cioè Nel senso che Se tu hai un segmento Un po' più Ad esempio Mi sono trovato A iniziare Delle lezioni online E In testa Pensavo Avevo V-commerce Poi ho scoperto Che Ci sono dei plug-in Migliori Però la logica è la stessa Cioè Una volta fatto un prodotto Qui La cosa qui Bene o male Anche gli altri plug-in Ragionano nello stesso modo Allora Nella parte iniziale Il titolo prodotto La descrizione Che è quella Che vi faccio vedere Allora Vabbè Ve lo faccio Vi faccio vedere I due portali Così Raffrontiamo Allora Come vedete Questo è il titolo La descrizione Questa qua sotto E poi In questo caso C'è la tab Delle recensioni Quindi Permettete Ai clienti Di poter recensire I vostri prodotti Allora Il prezzo È stato inserito Iva esclusa In questo caso È sbagliato Nel senso che Non c'è niente di sbagliato Ma quello che vi ho consigliato Prima È di fare il contrario Cioè Di impostare Ma si può impostare Sulle imposte E quant'altro Di impostare Il prezzo Più L'iva a lato In maniera che Il commercialista Non vada in crisi Perché È anche obbligatorio Perché È anche obbligatorio È vero No ma lui nel carrello Alla fine Ti mette il prezzo Totale Però ad esempio I commercialisti Recriminano quello Dicono Deve essere separato E deve essere C'è la possibilità Di capirlo chiaramente Sì 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 Questo è il trucchetto Che volevano usare Dei clienti Su un loro store Per far sembrare Che costassero meno Volevano dare La botta Diva finale Solo in fase di check out Quindi neanche nel carrello Proprio solo quando Schiacci check out Per pagare Il problema Sta nel fatto Che poi devi Cambiare tutti i codici Della fattura Per farla quadrare Come piace al commercialista È un pasticcio E io Allora Qui Allora Degli interessati Chi non ha mai visto Un wordpress Dalla tua amministrazione Boh L'avete visto tutti Quindi qui non ve lo sto a dire È esattamente come gli articoli Non cambia niente Pubblicate da lì Allora Facciamolo fisicamente Allora Categorie novità Aia Qua la sto facendo Va bene Facendo da un'altra parte Non va bene Perché Però Tanto sono obbligato Va bene Allora Qui Il tag del prodotto Questo è uguale Al post Facebook Classico Quindi Camicia Si mettono le parole Con la virgola Plus Allora La parte Particolare È questo Del prodotto Allora Nella parte generale Vi chiede se È un prodotto semplice Oppure un prodotto variabile Quindi qui Nel caso Sia un prodotto variabile Mettiamo caso che La mia camicia blu È variabile Vedete che Mi sono uscite Molte più opzioni Tra cui Le variazioni Adesso le andiamo a vedere Una per una Allora Le tasse Qua lasciamo tutto fermo Nell'inventario Noi diciamo Qua possiamo Abbiamo la possibilità Di inserire il codice Dei prodotti Questo poi Serve a chi Poi Implementa Dei plug-in Con la lettura Del codice O cose di questo tipo Ad esempio Se vuoi fare un magazzino Che non è scisso Dal magazzino Dell'attività Fisica Avere i codici Prodotto È utile Perché Sai in tempo reale Con una cassa Sempre online Se il prodotto C'è No Non puoi farlo manualmente Deve essere fatto Ma no Perché alla fine Ti ritroverai Nei pasticci Di un cliente Che acquista Perché se è online Ci deve essere Ma se tu No 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 Ma non funziona così No Ascolta Se Se tu hai Un magazzino Unico Le cose Devono sparire In tempo reale Io lo sconsiglio Per un motivo Pratico Cioè Se io sto vendendo Una camicia E sto andando Alla cassa Con la camicia in mano E online In quel momento Mi hanno comprato Quella camicia Quella camicia lì Non la posso più Comprare E come glielo spiego Al cliente Sì ma io ti ho dato L'esempio estremo Per dirti Che nasce un pasticcio No ma in realtà Aspetta Non hai colto Un lato Non hai colto Un lato dello store Tu immagina Che questo è il tuo magazzino E tu hai la vendita Diretta Lì Il tuo magazzino online Può essere dietro A quelle scritte Non ha bisogno Di essere enorme Tu online Oltretutto Più prodotti Metti Più Mandi in confusione Il cliente Le vendite online Quelle che io consiglio Sono sempre Di prodotti Mirati Su cui tu sai Di avere Un vantaggio Sui tuoi competitor Tu sai che hai una partita Sotto costo O altro Comincia da quello Poi se quell'e-commerce È sostenibile E ti costa Quei dieci minuti Di lavoro al giorno Non di più Una volta il regime Tu vieni avanti Vieni avanti Vieni avanti E poi scoprirai un giorno Che non hai bisogno Di vendere In maniera diretta E va bene così Però si comincia sempre Da una fase Di analisi E quindi Alla fine Per capirci In maniera pratica Io faccio l'ordine Alle 11 Ho comprato tre prodotti Sono là dentro E non mi interessa Ho fatto un ordine Alle tre Altri due prodotti Ho fatto un ordine Alle cinque Un altro prodotto Io la sera Alle 18 Ho concordato Che il corriere Viene a ritirare la merce Alle 17.30 Vado lì Preparo tre pacchi Li metto All'ingresso Del negozio E non gli dico niente Viene se li prende Cioè Questa è l'impostazione Che devo dare All'attività online Poi ti ripeto Avrai sempre tempo Di aumentare La tua attività Però consiglio sempre Di partire Con le idee chiare Allora Si fa così Se una signora Arriva Vuole una cosa Che io so Che è soltanto online E io lo so Perché Io cosa faccio Vado online La rimuovo dal magazzino Aggiorno la pagina È rimossa E poi vado E lo prendo la signora Non faccio il contrario Non faccio il contrario La signora ne vuole otto Io Sì Io vado prima qua Vado sul mio sito Entro in questo lato Amministrazione Vado su tutti Scusate perché adesso Devo di nuovo Allora 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 È cambiato prima E poi tolgo dal magazzino E lo contabilizzo Con lo scontrino Dell'attività Non c'entra niente Questo Ok Poi Le spese di spedizione Come abbiamo detto Anche lì Consiglio di Cominciare a ragionare Sulle vendite in Italia Poi Tempo ad ampliarsi Ce n'è sempre Però Anche qui Minimal Si mettono Le spedizioni standard In tutta Italia E poi si fa un piano Col corriere Che potrà solo Migliorare nel tempo Perché Mi abbassare i costi In base alle vendite Allora Qua posso decidere Di mettere Degli articoli collegati Ad esempio Se voglio fare Delle landing page Di prodotto Efficaci Posso già decidere Se uno mi compra Come fa Amazon Hai comprato questo Guarda che c'è anche Quest'altro prodotto Che potresti avere Con lui Quindi posso decidere Di mettere I prodotti da abbinare Poi Come dicevamo prima Gli attributi del prodotto Quindi Le caratteristiche Le variazioni Allora In questo caso Vabbè Gli attributi Gli attributi Gli attributi Sono Ad esempio Delle caratteristiche Queste sono Delle caratteristiche Da combinare Cioè Da aggiungere A quelle Ad esempio Puoi avere Una maglia gialla Delle lenzuola gialle A una o due piazze Sì hai ragione Sto cominciando A perdere anch'io Il control Però essendo proprio cose Che puoi inserire Poi dipende Dalla logica Dalla logica Che tu adatti Al tuo store Allora 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 Mi sollecitano Quei minuti Quindi Se avete Una domanda O due finali Per farvi Un riassunto Veloce Sì Sì Sta a te Puoi decidere Se dare un vantaggio All'attività O all'online Cioè Sta a te Come giocarti A livello di storia Personale La cosa Tu puoi dire Tu puoi scoraggiare Puoi scoraggiare I tuoi clienti A comprare lì Oppure incoraggiarli Dipende Dal tuo targeting Quella è una strategia Che puoi decidere Questi sono solo strumenti Poi la strategia La devi proprio decidere In base alle situazioni E Prego Check out In fase di check out Che non l'abbiamo affrontata In fase di check out Sostanzialmente Anche lì La via è più facile Si prepara un account Paypal E si gestisce Il check out Con un account Paypal Oppure Si possono mettere Il WooCommerce Lo permette Tramite le impostazioni No Non lì Aspetta Nulla Ho la fretta Di Tramite le impostazioni Stop Va bene Se abbiamo un minuto Poi Ti faccio vedere solo questo Allora Cassa Vedi In fase di Come ti dicevo prima Nelle impostazioni Tu decidi tutto È il core Del ragionamento Del tuo store E tu qui Puoi decidere Che metodo di pagamento Aggiungere Come vedi Sono qua i metodi di pagamento Vedi Li aggiungi Li rimuovi come preferisci E poi li imposti Tutto lì Ad esempio Io non credevo assolutamente Prima di fare questo Ho scoperto che Il pagamento Alla consegna Con contrassegno È gettonatissimo Io non lo sapevo L'ho scoperto Lavorato Ed è un po' Però pagano Cioè io pensavo Avrebbe prodotto Un sacco di problemi Invece Funziona benissimo Quindi Non ho più pregiudizi Su questo Io non ho Paypal Come? Io non ho Paypal Paypal Io sì Lo consiglio Perché alla fine Come? Io non ho Paypal Ti ho dato il conto Paypal No 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 Questo poi Paypal Tu lo vai a guardare Permette anche i pagamenti Senza Grazie 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 a tutti